Professor Luigi Senatore, Cava Smart, un concorso concluso. Arrivate le domande, come si prosegue nel progetto per rendere Cava una Smart City? Allora, siamo molto soddisfatti per le domande. Sono arrivate 12 domande, insomma, un successo importantissimo. Vuol dire che il territorio aspettava questo tipo di proposta. Adesso è stata nominata la commissione, che a breve si riunirà, credo, per la valutazione delle domande. Valutazione delle domande, il vincitore cosa farà? Avrà solamente un premio o la sua vita continuerà con l'amministrazione? Sicuramente il premio sarà un punto d'arrivo, ma anche di partenza. Perché l'intenzione è quella di creare una piattaforma permanente per questo tipo di progettualità, che è importantissima per questa città. Quindi sarà un integrato nel progetto di realizzazione della idea progettuale che ha presentato? Sì, esatto. Si faranno tutti gli sforzi per tenere il proponente all'interno del progetto o il gruppo proponente all'interno del progetto per andare avanti e dare, come dire, una risposta concreta alla progettualità presentata. Un'ultima volta, CavaSmart cosa significa? Cambierà solo per i relativi digitali o per tutti? No, CavaSmart è a servizio di tutti. In CavaSmart si mette la tecnologia a favore della qualità della vita dei cittadini. Questa è la cosa fondamentale. Quelli che non sono tanto tecnologici non rimarranno fuori da questo progetto, anzi, ne avranno le conseguenze positive, immagino. Quelli che non sono tanto tecnologici non rimarranno fuori da questo progetto.